Il corso finanziato dalla Regione Marche, denominato Tecnico dell'Organizzazione del Processo di Spedizione della Merce, è di 500 ore, 200 ore e il tirocinno 8 ore di esame. Il corso avrà sede a Fermo e si rivolge a 15 allievi occupati e disoccupati, più 5 lettori. Il corso è organizzato dalla Cooperativa Gora, Cosmarche, Poliarte e Politecnico delle Arti, Cooperativa Pacefa e 9001. Il corso consente di acquisire le competenze per pianificare, organizzare e coordinare le procedure per la spedizione e il trasporto di merci su tutto territorio nazionale e internazionale. Fornisce gli strumenti, i metodi e le tecniche per configurare la spedizione e il trasporto, prevalutare esigenze e urgenze ed identificare mezzi, tempi e costi, predisporre la documentazione e spietando le formalità necessarie nel rispetto delle normative di settore e della sicurezza. La figure professionale in uscita offre opportunità di inserimento in aziende con gestione e magazzino, produzione e consegna merci in aziende afferenti alla piccola, media e grande distribuzione organizzata.